Lavorate sodo e avrete successo. Mi piace andare a teatro, ma stasera voglio restare a casa. Mi piace andare a teatro, ma stasera voglio restare a casa. Mi piace andare a teatro, ma stasera voglio restare a casa. Mi piace andare a teatro, ma stasera voglio restare a casa. L'arrivo del pacco richiederà alcuni giorni. L'arrivo del pacco richiederà alcuni giorni. In inverno siamo soliti partire per climi più caldi. In inverno siamo soliti partire per climi più caldi. La mia famiglia parte domani per una settimana. 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 Vado in vacanza per due mesi interi. Vado in vacanza per due mesi interi. Platite per l'arrendo quartiere per ogni mese dovete pagare l'affitto ogni mese. Dovete pagare l'affitto ogni mese. V'etam mese io ho ricevuto un piccolo bonus. Questo mese ho ricevuto un piccolo bonus. Сейчас мне нужно переодеться. Devo cambiare ora. Devo cambiare ora. Devo cambiare ora. L'ho chiamato dieci volte, ma non risponde. L'ho chiamato dieci volte, ma non risponde. L'ho chiamato dieci volte, ma non risponde. L'estate è più calda e le giornate sono più lunghe. L'estate è più calda e le giornate sono più lunghe. Quest'anno l'inverno sarà freddo. Quest'anno l'inverno sarà freddo. Quest'anno l'inverno sarà freddo. Ci incontriamo ogni sera. Ci incontriamo ogni sera. L'outline risponde a tutte le domande. L'outline risponde a tutte le domande. L'outline risponde a tutte le domande. Nalèi mi, per favore, ciascuna coffee. Versatemi una tazza di caffè, per favore. Aiutatemi a pulire il lavandino. Aiutatemi a pulire il lavandino. Domani è il suo compleanno, siamo invitati. Domani è il suo compleanno, siamo invitati. Posso andare ora? Posso andare ora? Posso andare ora? Devi scendere al piano terra. Devi scendere al piano terra. Devi scendere al piano terra. E' meglio evitare i conflitti sul lavoro e a casa. È meglio evitare i conflitti sul lavoro e a casa. Oggi il cielo è sgombro di nuvole e compaiono le prime stelle. Questo bell'uomo mi piace molto. Questo bell'uomo mi piace molto. Ora sono pronti a rispondere. Non sono pronto a rispondere in questo momento. Non sono pronto a rispondere in questo momento. Non sono pronto a rispondere in questo momento. Mio marito sa come prestare il primo soccorso. 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 Il suo stipendio è molto più alto del mio. Il suo stipendio è molto più alto del mio. Mio mi piace questo hotel. meglio prendere in considerazione un'altra opzione. Non mi piace questo hotel. Meglio prendere in considerazione un'altra opzione. Ci sono molti lavori disponibili su internet. Io vorrei cambiare questo vestito con una taglia più grande. Vorrei cambiare questo vestito con una taglia più grande. Non andrò in vacanza fino al mese prossimo. Non andrò in vacanza fino al mese prossimo. È cambiato molto da quando si è sposato. È cambiato molto da quando si è sposato. Ho due figli, una femmina e un maschio. Ho due figli, una femmina e un maschio. Io penso sempre prima di dire qualcosa. Penso sempre prima di dire qualcosa. Quando sono a casa. cerco di passare più tempo con la mia famiglia. Penso che ci arriveremo in metà tempo con la metropolitana. Penso che ci arriveremo con la metropolitana. abbiamo tutto bene. cerco di passare più tempo con la metropolitana. cercherò di farlo entro lunedì. 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 mi è stato spiegato tutto. so già come funziona. mi è stato spiegato tutto. e come funziona tutto. Il ciò è tutto. abbiamo tutto. abbiamo tutto bevande calde e fredde. abbiamo tutto bevande calde e fredde. Abbiamo tutto, bevande calde e fredde Fa freddo, quindi ho indossato una giacca e un cappello Fa freddo, quindi ho indossato una giacca e un cappello Fa freddo, quindi ho indossato una giacca e un cappello Ho aspettato il mio turno per più di un'ora Ho aspettato il mio turno per più di un'ora Ho aspettato il mio turno per più di un'ora Mio figlio ha tre anni e mia figlia otto Mio figlio ha tre anni e mia figlia otto Non indosso mai un cappello in inverno Non indosso mai un cappello in inverno La casa ha più di dieci camere da letto La casa ha più di dieci camere da letto La casa ha più di dieci camere da letto La stanza è molto più confortevole con i mobili La stanza è molto più confortevole con i mobili Mi piace più di dieci camere da letto Questo divano mi piace di più di quello Questo divano mi piace di più di quello Mi dispiace, ho sbagliato e voglio scusarmi Mi dispiace, ho sbagliato e voglio scusarmi Veceremo il mio figlio Il mio figlio ha più di un bambino Il mio figlio ha più di un bambino Mio figlio va a prendere il bambino all'asilo stasera Mio figlio va a prendere il bambino all'asilo stasera Mio figlio va a prendere il bambino all'asilo stasera Voglio scusare le mie cose che sono rimaste nell'appartamento Voglio raccogliere le mie cose che sono rimaste nell'appartamento È possibile partecipare una volta gratuitamente È possibile partecipare una volta gratuitamente È possibile partecipare una volta gratuitamente Tornerò tra qualche giorno Tornerò tra qualche giorno Tornerò tra qualche giorno Sono malato, devo andare in ospedale oggi Sono malato, devo andare in ospedale oggi Solo i bambini piccoli possono correre così tanto Solo i bambini piccoli possono correre così tanto Finalmente, domani è festa e noi partiamo per le vacanze Finalmente, domani è festa e noi partiamo per le vacanze Ho aperto tutte le vacanze Ho aperto tutte le finestre per ventilare Ho aperto tutte le finestre per ventilare Ho comprato un nuovo telefono Il vecchio si è rotto Ho comprato un nuovo telefono Ho comprato un nuovo telefono Il vecchio si è rotto Il tuo appartamento è più grande del mio 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 Ho comprato un nuovo telefono Voglio comprare un'auto nuova, una più costosa Voglio comprare un'auto nuova, una più costosa Andiamo a mangiare, ho già preparato la cena Andiamo a mangiare, ho già preparato la cena Andiamo a mangiare, ho già preparato la cena Le regole sono fatte per essere infrante Le regole sono fatte per essere infrante Le regole sono fatte per essere infrante Voglio regalare a mia moglie un braccialetto d'oro Voglio regalare a mia moglie un braccialetto d'oro Voglio regalare a mia moglie un braccialetto d'oro Le regole devono essere rispettate da tutti, senza eccezioni Le regole devono essere rispettate da tutti, senza eccezioni Meglio non guardare in basso, ho molta paura delle altezze Meglio non guardare in basso, ho molta paura delle altezze Voglio regalare a mia moglie un braccialetto d'oro Voglio regalare a mia moglie un braccialetto d'oro L'estate è il mio periodo preferito dell'anno L'estate è il mio periodo preferito dell'anno Non voglio nemmeno pensarci Non voglio nemmeno pensarci Non voglio nemmeno pensarci Vom нужно periti na tu storonu d'oroge È necessario attraversare l'altro lato della strada È necessario attraversare l'altro lato della strada È necessario attraversare l'altro lato della strada Non potete immaginare come sia stata la giornata di oggi. Chiedere tutto ciò che si desidera. Chiedere tutto ciò che si desidera. Chiedere tutto ciò che si desidera. Guarda alla tua sinistra, ti sto salutando. Guarda alla tua sinistra, ti sto salutando. Parlate a voce così alta che tutti i vicini vi sentono. Ci siamo incontrati sull'autobus. Ci siamo incontrati sull'autobus. Ci siamo incontrati sull'autobus. Ci siamo incontrati sull'autobus. Ci sono incontrati sull'autobus. Ci sono incontrati sull'autobus. Ho messo le tue chiavi nella mia borsa. Ho messo le tue chiavi nella mia borsa. Ci siamo incontrati sull'autobus. Ci siamo incontrati sull'autobus. Siamo incontrati sull'autobus. Ci siamo incontrati sull'autobus. Siamo incontrati sull'autobus. Peccato che queste informazioni non possano essere verificate. L'azienda controlla tutti i suoi dipendenti. 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 Non ho fatto nulla di male. Non ho fatto nulla di male. Non ho fatto nulla di male. Uo male di gola e febbre alta. Uo male di gola e febbre alta. Uo male di gola e febbre alta. Non hai risposto a tutte le domande. Non hai risposto a tutte le domande Hai fatto la cosa giusta, non ti preoccupare Hai fatto la cosa giusta, non ti preoccupare Hai fatto la cosa giusta, non ti preoccupare Ho paura di andare in acqua profonda perché non sono un buon nuotatore Ho paura di andare in acqua profonda perché non sono un buon nuotatore Ho paura di andare in acqua profonda perché non sono un buon nuotatore Mi sveglio presto la mattina per andare al lavoro Mi sveglio presto la mattina per andare al lavoro Quella è la tua valigia e quella è la mia Quella è la tua valigia e quella è la mia Non ho paura di nulla e non mi vergogno di nulla Non ho paura di nulla e non mi vergogno di nulla Tvoi советы mi очень помогli I vostri consigli mi hanno aiutato molto I vostri consigli mi hanno aiutato molto I vostri consigli mi hanno aiutato molto Abbiamo trascorso l'intera settimana insieme Abbiamo trascorso l'intera settimana insieme Abbiamo trascorso l'intera settimana insieme Abbiamo con la mia famiglia 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 Abbiamo trascorso l'intera settimana insieme Questo video ha totalizzato un milione di visualizzazioni. Tua sorella ci ha invitato a visitare. Tua sorella ci ha invitato a dire la verità. Cerco sempre di dire la verità. Cerco sempre di dire la verità. La musica allegra mi solleva il morale. E qual è l'occasione? E qual è l'occasione? Non ho detto nulla del genere. Non gli ho detto nulla del genere. Non gli ho detto nulla del genere. E comunque chi pensi che io sia? E comunque chi pensi che io sia? E comunque chi pensi che io sia? A volte vendo, ma più spesso scambio. Non volevo offenderti. Non volevo offenderti. Non volevo offenderti. Quali domande le sono state poste se lo ricorda? Quali domande le sono state poste se lo ricorda? sono state poste se lo ricorda? Sono stato al parco e poi sono tornato a casa. Sono stato al parco e poi sono tornato a casa. Che ne dite di una cena al ristorante? Che ne dite di una cena al ristorante? Ogni giorno è uguale. Ogni giorno è uguale. Lavoro, casa. Ogni giorno è uguale. Ogni giorno è uguale. Lavoro, casa. Se non sbaglio, il 12 giugno. Se non sbaglio, il 12 giugno. Se non sbaglio, il 12 giugno. Non sbaglio, casa. Non vuoi parlare. Non vieni ancora più. Non vuoi parlare? Non vuoi parlare? Non vuoi parlare con lui? Non vuoi parlare? Non vuoi parlare? Poi ho parlato con lui al telefono ieri. Ho parlato con lui al telefono ieri. Mi dispiace, non volevo offenderla. Mi dispiace, non volevo offenderla. Mi è capitato di notare. Mi è capitato di notare. E da una parte e dall'altra? E da una parte e dall'altra? Sarebbe meglio se lo raccontasse lei stesso. Sarebbe meglio se lo raccontasse lei stesso. Ha già ricevuto un avvertimento. Ha già ricevuto un avvertimento. Ha già ricevuto un avvertimento. Ho mettetevi nei miei panni e poi dite. Mettetevi nei miei panni e poi dite. Possiamo continuare se non le dispiace? Possiamo continuare se non le dispiace? Questa battuta non è divertente. Questa battuta non è divertente. Non l'ho chiamato la mattina, ma la sera. Non l'ho chiamato la mattina, ma la sera. Aveva promesso di venire, ma per qualche motivo non l'ha fatto. Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Io проверio tutte le tue parole, non dimenticare. Controllerò ogni parola che dici, non dubitare. Controllerò ogni parola che dici, non dubitare. Purtroppo, queste cose non durano a lungo. Purtroppo, queste cose non durano a lungo. C'è questo parlamento. Purtroppo, questa conversazione. Purtroppo, questa conversazione. Torneremo su questa conversazione. Non ricordo più esattamente. Non ricordo più esattamente. Dimostrare che ci si può ancora fidare di voi. Dimostrare che ci si può ancora fidare di voi. Dove ha chiamato al lavoro o a casa? Dove ha chiamato al lavoro o a casa? Per me personalmente è abbastanza chiaro. 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 Non ne ho uno Al mio arrivo non c'era nessuno Al mio arrivo non c'era nessuno Nascondiamoci sotto un albero, ci riparerà Nascondiamoci sotto un albero, ci riparerà Nascondiamoci sotto un albero, ci riparerà Ci sono sempre molte pozzanghere dopo la pioggia Ci sono sempre molte pozzanghere dopo la pioggia Ci sono sempre molte pozzanghere dopo la pioggia È il mio migliore e unico amico qui È il mio migliore e unico amico qui Ma i radici li prevedo zattra Domani arrivano i miei genitori Domani arrivano i miei genitori Domani arrivano i miei genitori Ha un marito molto geloso Ha un marito molto geloso Ha un marito molto geloso Mia moglie mi sostiene sempre Mia moglie mi sostiene sempre Mia moglie mi sostiene sempre Legare il laccio delle scarpe perché è slacciato Legare il laccio delle scarpe perché è slacciato Legare il laccio delle scarpe perché è slacciato Mi è caduta la tazza e si è rotta Mi è caduta la tazza e si è rotta Mi è caduta la tazza e si è rotta Perché stai piangendo? Lacrime di gioia Perché stai piangendo? Lacrime di gioia Perché stai piangendo? Lacrime di gioia Il mio sogno si è avverato, ci trasferiamo domani Sono molto felice di vedere i miei figli in salute Sono molto felice di vedere i miei figli in salute È sempre bello vedere i propri nipotini È sempre bello vedere i propri nipotini In casa mia ci sono quattro camere da letto Io ho pianto lacrime di gioia quando ho scoperto il risultato Questo vestito è molto di moda in questo momento Questo vestito è molto di moda in questo momento Ieri ho incontrato la ragazza più bella del mondo Ieri ho incontrato la ragazza più bella del mondo Non sono pronto a rispondere in questo momento Non sono pronto a rispondere in questo momento Voglio comprare un piccolo regalo per la mia mamma Voglio comprare un piccolo regalo per la mia mamma Mia madre si è comprata una borsa come questa Mettere la tuta Mettere la tuta da ginnastica nella borsa Mettere la tuta da ginnastica nella borsa Этот костюм тебе очень идет Quel vestito ti sta benissimo Quel vestito ti sta benissimo Quel vestito ti sta benissimo Никто не хочет отвечать первым 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 Кажется, что переднее колесо пробита Сначала все казалось очень просто All'inizio sembrava molto semplice All'inizio sembrava molto semplice У нее нет другого выхода Non ha altra scelta Запасным выходом мы пользуемся только в чрезвычайных ситуациях Я приду к вам вместе с женой Входи в дом, дверь открыта Я много работаю, чтобы заработать на жизнь Lavoro duramente per guadagnarmi da vivere Lavoro duramente per guadagnarmi da vivere Lavoro duramente per guadagnarmi da vivere Они платят всем одинаково Pagano tutti allo stesso modo Pagano tutti allo stesso modo Pagano tutti allo stesso modo Он строгий, но справедливый начальник È un capo severo, ma giusto È un capo severo, ma giusto È un capo severo, ma giusto В его бумажнике мало денег Non ci sono abbastanza soldi nel suo portafoglio Non ci sono abbastanza soldi nel suo portafoglio Он все делает быстро и качественно Fa tutto in modo rapido ed efficiente Fa tutto in modo rapido ed efficiente Fa tutto in modo rapido ed efficiente Questo torto era delizioso Questa torta era deliziosa Questa torta era deliziosa Certo di essere attento al lavoro Cerco di essere attento al lavoro Cerco di essere attento al lavoro Il vostro appartamento ha bisogno di una ristrutturazione urgente Il vostro appartamento ha bisogno di una ristrutturazione urgente Tra un anno avrò risparmiato i soldi per il viaggio Tra un anno avrò risparmiato i soldi per il viaggio Per raggiungere la spiaggia ci vogliono circa 10 minuti a piedi Per raggiungere la spiaggia ci vogliono circa 10 minuti a piedi È entrato dalla finestra È entrato dalla finestra È entrato dalla finestra Tutti hanno il diritto di votare Tutti hanno il diritto di votare Tutti hanno il diritto di votare Chiamo i miei genitori ogni giorno Chiamo i miei genitori ogni giorno Due volte al giorno faccio la doccia Due volte al giorno faccio la doccia Le foglie degli alberi cadono in autunno Le foglie degli alberi cadono in autunno Questo metodo di trattamento è il più efficace Questo metodo di trattamento è il più efficace Mi fido di mio marito Mi fido di mio marito Mi fido di mio marito Questo divano è molto comodo Questo divano è molto comodo Questo divano è molto comodo L'ultima casa a destra alla fine della strada 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 Di solito compro questo latte Di solito compro questo latte Di solito compro questo latte Di solito mesmeno Studio molto nel tempo libero Studio molto nel tempo libero Studio molto nel tempo libero Mi piacciono i ristoranti, ma spesso cucino da sola. Sarete in grado di finire questo lavoro entro domani? Sarete in grado di finire questo lavoro entro domani? Sarete in grado di finire questo lavoro entro domani? Sarete in grado di finire questo lavoro entro domani? Scelgo il mio lavoro in modo molto responsabile. Scelgo il mio lavoro in modo molto responsabile. Non volevo svegliarti, così ho preparato la colazione da sola. Non volevo svegliarti, così ho preparato la colazione da sola. Sarete in grado di finire questo lavoro entro domani? Sarete in grado di finire questo lavoro? Sarete in grado di finire questo lavoro? Lavare i vestiti in lavatrice. Non ho mai fatto paracadutismo. Non ho mai fatto paracadutismo. Andiamo a mangiare, sta per arrivare il freddo. Andiamo a mangiare, sta per arrivare il freddo. In cucina c'erano un tavolo e quattro sedie. Sedersi alla scrivania e accendere il computer. Sedersi alla scrivania e accendere il computer. Fuori è buio, accendete la luce. Fuori è buio, accendete la luce. Fuori è buio, accendete la luce Il nostro capo ci punisce perché siamo in ritardo Il nostro capo ci punisce perché siamo in ritardo Il nostro capo ci punisce perché siamo in ritardo Non chiedere mai alle donne la loro età Non chiedere mai alle donne la loro età Non chiedere mai alle donne la loro età Non sopporto i pettegoli Non sopporto i pettegoli Ricordo tutto quello che mi ha detto su Ricordo tutto quello che mi ha detto su Ricordo tutto quello che mi ha detto su I miei genitori litigano spesso I miei genitori litigano spesso I miei genitori litigano spesso Bevo sempre il caffè senza zucchero Bevo sempre il caffè senza zucchero Bevo sempre il caffè senza zucchero Un mio conoscente mi ha prestato del denaro Un mio conoscente mi ha prestato del denaro Oggi mi sento meglio di ieri Oggi mi sento meglio di ieri Oggi mi sento meglio di ieri Tебi bisogna купire nuovi sapaghi Devi comprare degli stivali nuovi Devi comprare degli stivali nuovi Devi comprare degli stivali nuovi Il mal di testa è sparito La pillola è stata davvero d'aiuto Il mal di testa è sparito La pillola è stata davvero d'aiuto Insiste nel dire la verità Insiste nel dire la verità Insiste nel dire la verità Un po bellissimo abismo off L' esperando il brazo L' bevizietà ha uno bellissimo abismo L' Golden Robot La sposa ha uno bellissimo abismo La sposa ha un bellissimo abismo da arma È così bello quando sorride Voglio regalare a mia moglie un grande mazzo di fiori Mio figlio è un ragazzo intelligente e di grande talento Mio figlio è un ragazzo intelligente e di grande talento Mi ha promesso di non dire più bugie Mi ha promesso di non dire più bugie Tutte le persone commettono errori, anche quelle più intelligenti Tutte le persone commettono errori, anche quelle più intelligenti Per riuscire a questa paese è stata una saggia decisione È tornato ieri da un viaggio di lavoro È tornato ieri da un viaggio di lavoro Ci siamo conosciuti un po' di tempo fa, ma siamo diventati ottimi amici Ci siamo conosciuti un po' di tempo fa, ma siamo diventati ottimi amici Ieri ho riposato tutto il giorno Ieri ho riposato tutto il giorno Ieri ho riposato tutto il giorno Andiamo, il sole splende, il tempo è bello Andiamo Andiamo, il sole splende, il tempo è bello Poveste tu pollocco na urovni glas Appendete questo scaffale all'altezza degli occhi Appendete questo scaffale all'altezza degli occhi Appendete questo scaffale all'altezza degli occhi Io voglio parlare con te da solo Voglio parlare con te da solo Voglio parlare con te da solo Просто хотела тебя увидеть Volevo solo vederti Volevo solo vederti Volevo solo vederti Io chiedo per spiegare, non vuoi spiegare, andare in giro? Ti chiamo per chiederti se vuoi fare una passeggiata, andare al cinema? Ti chiamo per chiederti se vuoi fare una passeggiata, andare al cinema? Ti chiamo per chiederti se vuoi fare una passeggiata, andare al cinema Devo solo assicurarmi che stia bene Devo solo assicurarmi che stia bene Per entrare in questo edificio è necessario conoscere il codice Per entrare in questo edificio è necessario conoscere il codice Ma non ditelo a nessuno Ma non ditelo a nessuno Ma non ditelo a nessuno Per favore, andiamo oggi Per favore, andiamo oggi Per favore, andiamo oggi Io perizvano a lui domani, perché oggi abbiamo già parlato Lo richiamerò domani, perché oggi abbiamo già parlato Lo richiamerò domani, perché oggi abbiamo già parlato Andremo in palestra, se domani ci alzeremo presto 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 Vi racconterò tutto domani, ora ho da fare 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 Lavo i piatti ogni mattina Lavo i piatti ogni mattina Nalèi me, пожалуйста, ciasco ciaia Versatemi una tazza di tè, per favore Versatemi una tazza di tè, per favore Versatemi una tazza di tè, per favore Così a più tolco utramm Bevo il caffè solo al mattino Bevo il caffè solo al mattino L'ho aiutato e non mi ha nemmeno ringraziato L'ho aiutato e non mi ha nemmeno ringraziato C'è stato il caffè solo al mattino C'è stato il caffè solo al mattino L'ho aiutato e non mi ha nemmeno ringraziato Fortunatamente il chirurgo non ha riscontrato una frattura Ma solo una comune distorsione Fortunatamente il chirurgo non ha riscontrato una frattura Ma solo una comune distorsione La mia casa è la terza a sinistra, all'angolo della strada La mia casa è la terza a sinistra, all'angolo della strada Ho bisogno di un'ora per prepararmi La mia casa è la terza a sinistra È il vostro compito occuparvi dei bambini È il vostro compito occuparvi dei bambini È il vostro compito occuparvi dei bambini Vivo in modo modesto, senza troppi lussi Vivo in modo modesto, senza troppi lussi Poverni rucca in alto, per aprire la finestra Ruotare la maniglia verso l'alto per aprire la finestra Ruotare la maniglia verso l'alto per aprire la finestra E è stato prestato il primo soccorso in ospedale E è stato prestato il primo soccorso in ospedale Mi ha chiesto di richiamarla urgentemente Mi ha chiesto di richiamarla urgentemente Mi ha chiesto di richiamarla urgentemente Io finisco qui, poi potrete riposare un po' Finisco qui, poi potrete riposare un po' Grazie per l'aiuto Grazie per l'aiuto Non mi piace essere in debito con qualcuno Non mi piace essere in debito con qualcuno Non mi piace essere in debito con qualcuno Ho pagato tutte le bollette di questo mese Ho pagato tutte le bollette di questo mese Ho pagato tutte le bollette di questo mese Voglio dimenticare tutto il più rapidamente possibile e non ricordare più nulla Voglio dimenticare tutto il più rapidamente possibile e non ricordare più nulla I genitori non torneranno prima di domenica I genitori non torneranno prima di domenica Dobbiamo pagare il mutuo ogni mese Dobbiamo pagare il mutuo ogni mese Dobbiamo pagare il mutuo ogni mese У тебя очень необычное имя Hai un nome molto insolito Hai un nome molto insolito Hai un nome molto insolito Questa città mi è piaciuta fin dai primi minuti Non sei ancora stato nella piazza centrale Non sei ancora stato nella piazza centrale Non sei ancora stato nella piazza centrale Ransce io giivo in деревni, a ne v goroade Vivevo in campagna, non in città Vivevo in campagna, non in città Vivevo in campagna, non in città C'era visto in il silne dost Ieri ha piovuto forte tutto il giorno Ieri ha piovuto forte tutto il giorno Guardate quanto è grande la nave Guardate quanto è grande la nave È una piccola ma bella città sul mare È una piccola ma bella città sul mare È una piccola ma bella città sul mare Non voglio più litigare con te Non voglio più litigare con te Non voglio più litigare con te È troppo tardi L'aereo ha appena lasciato l'aeroporto È troppo tardi L'aereo ha appena lasciato l'aeroporto È troppo tardi È troppo tardi L'aereo ha appena lasciato l'aeroporto Ce l'abbiamo fatta l'aereo era appena atterrato Ce l'abbiamo fatta l'aereo era appena atterrato È stata una serata piacevole È stata una serata piacevole C'è un buon ristorante economico nelle vicinanze C'è un buon ristorante economico nelle vicinanze Non ho mai visto un tramonto così bello Non ho mai visto un tramonto così bello Non ho mai visto un tramonto così bello Moia quarta è la quarta età Il mio appartamento è al quinto piano Il mio appartamento è al quinto piano Il mio appartamento è al quinto piano Io vivo in un appartamento piccolo ma accogliente Io vivo in un appartamento piccolo ma accogliente Probate questa insalata è deliziosa Probate questa insalata è deliziosa Probate questa insalata è deliziosa Poi ho confessato che era molto spaventoso Ti richiamo tra un'ora Ti richiamo tra un'ora Ti richiamo tra un'ora Ho dovuto lasciare il lavoro in anticipo Ho dovuto lasciare il lavoro in anticipo Creme e shampoo Creme e shampoo I primi prodotti per la toalettatura Creme e shampoo I primi prodotti per la toalettatura Bisogna prendersi cura di se stessi tutto il tempo Bisogna prendersi cura di se stessi tutto il tempo La giraffa ha un collo molto lungo La giraffa ha un collo molto lungo La giraffa ha un collo molto lungo Guarda ti sta salutando lo conosci Guarda ti sta salutando lo conosci Guarda ti sta salutando lo conosci Il mio amico di fronte Il mio amico di fronte Il mio amico di fronte Ho studiato duramente per ottenere una laurea con l'Ode Ho studiato duramente per ottenere una laurea con l'Ode Ho studiato duramente per ottenere una laurea con l'Ode Voglio rimanere qui per vivere e lavorare Oggi tocca a te lavare i piatti Oggi tocca a te lavare i piatti Oggi tocca a te lavare i piatti Fortunatamente sono stata accettata senza fare la fila Fortunatamente sono stata accettata senza fare la fila Ты скоро станешь отцом Stai per diventare padre Stai per diventare padre Stai per diventare padre Capisco perché sei arrabbiato con me Capisco perché sei arrabbiato con me Proviene da una famiglia benestante Proviene da una famiglia benestante Proviene da una famiglia benestante U нас есть все размеры Abbiamo tutte le taglie Abbiamo tutte le taglie Abbiamo tutte le taglie Mia mamma убедила меня в этом Mia madre mi ha convinto di questo Mia madre mi ha convinto di questo Mia madre mi ha convinto di questo У этой компании хорошая reputazione Questa azienda ha una buona reputazione Questa azienda ha una buona reputazione Questa azienda ha una buona reputazione Целый месяц шли проливные дожди Le piogge sono state abbondanti per un mese Le piogge sono state abbondanti per un mese Le piogge sono state abbondanti per un mese Все неделю я ему толкаете говорю И tutto quello che gli ho detto Per tutta la settimana И tutto quello che gli ho detto Per tutta la settimana И tutto quello che gli ho detto Per tutta la settimana Questo material è più resistente Quindi durerà più a lungo È importante rispettare le regole del decoro in azienda. È importante rispettare le regole del decoro in azienda. Partita annullata per maltempo. Partita annullata per maltempo. Partita annullata per maltempo. Il dipolo non si svolgerà nel cortile della scuola, ma in palestra. Non si svolgerà nel cortile della scuola, ma in palestra. Per me il clima fresco è molto più piacevole di quello caldo. Per me il clima fresco è molto più piacevole di quello caldo. Vi sono molto grato per il vostro aiuto e il vostro sostegno. Vi sono molto grato per il vostro aiuto e il vostro sostegno. Non abbandonare mai la speranza di un futuro migliore. Non abbandonare mai la speranza di un futuro migliore. Vero, che tutto andrà bene. Ho fede, che tutto andrà bene. Ho fede che tutto andrà bene Non prendete mai le persone sulla parola, spesso mentono Non prendete mai le persone sulla parola, spesso mentono Non prendete mai le persone sulla parola, spesso mentono Amma vantarsi dei suoi acquisti Amma vantarsi dei suoi acquisti Amma vantarsi dei suoi acquisti Moloco, творог e smetana содержат много calcio Il latte, la ricotta e la panna acida sono ricchi di calcio Il latte, la ricotta e la panna acida sono ricchi di calcio Il latte, la ricotta e la panna acida sono ricchi di calcio Nel tempo libero mi piace passeggiare sul lungomare 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 Nessuno è rimasto ferito nell'incidente Prestiamo particolare attenzione alla qualità dei prodotti Prestiamo particolare attenzione alla qualità dei prodotti Il vostro costume da bagno luminoso attira molta attenzione Il vostro costume da bagno luminoso attira molta attenzione I genitori dovrebbero prestare maggiore attenzione all'educazione dei figli I genitori dovrebbero prestare maggiore attenzione all'educazione dei figli I genitori dovrebbero prestare maggiore attenzione all'educazione dei figli Tебе должно быть stыдно за свое поведение Dovresti vergognarti del tuo comportamento Dovresti vergognarti del tuo comportamento Dovresti vergognarti del tuo comportamento Sobisiedование назначено на 8 часов Il colloquio è previsto per le 8 Il colloquio è previsto per le 8 Il colloquio è previsto per le 8 Io работаю в conditerской Lavoro in una pasticceria Lavoro in una pasticceria Lavoro in una pasticceria All'incrocio girare a destra 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 Metti le tue mani sulle mie spalle e stringimi tra le tue braccia. Metti le tue mani sulle mie spalle e stringimi tra le tue braccia. Appoggiare il piede sulla gamba. Appoggiare il piede sulla gamba. Appoggiare il piede sulla gamba. Questo tema è fuori discusione. Questo tema è fuori discusione. Uo nello spalle la temperatura è salita di qualche grado. La. Sua. Temperatura. È. Salita. Di. Qualche. Grado. La. Sua. Temperatura. È. Salita. Di. Qualche. Grado. Abbiamo lasciato le nostre cose in camera. Abbiamo. Lasciato. Le. Nostre. Cose. In. Camera. Abbiamo lasciato le nostre cose in camera. Мне нравится много путешествовать Mi piace viaggiare molto Mi piace viaggiare molto Mi piace viaggiare molto Он часто мне это повторяет Me lo ripete spesso Me lo ripete spesso Me lo ripete spesso Здесь ты можешь делать всё, что захочешь Он часто посещает местные бары по вечерам Our daughter will go to school this year Our daughter will go to school this year Мы приняли все меры для вашей безопасности 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 Он всю жизнь любит только себя Я не давала тебе повода для ревности У меня есть два брата и сестра Он ждет тебя возле двери уже больше часа Ты ты ждhot за пусти ý Ты ждешь за счёт Ты ждешь за как раз По mehr за час Ты ждешь за на улицу Ты ждешь за более чем час Mio fratello ha venduto il suo vecchio appartamento. Mio fratello ha venduto il suo vecchio appartamento. E mi sono comprato una grande casa in un nuovo quartiere. E mi sono comprato una grande casa in un nuovo quartiere. Questo video è già stato visto da oltre 10.000 persone. Questo video è già stato visto da oltre 10.000 persone. Non ci credo, non è vero. Non ci credo, non è vero. Non ci credo, non è vero. Si è addormentato letteralmente in un minuto. Si è addormentato letteralmente in un minuto. Andate in spiaggia lungo questa strada. Andare in spiaggia lungo questa strada. Andare in spiaggia lungo questa strada. Vado spesso a fare la spesa più volte alla settimana. Vado spesso a fare la spesa più volte alla settimana. Vado in spiaggia lungo questa strada. 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 dovrebbero essere finiti qui entro agosto dovrebbero essere finiti qui entro agosto dovrebbero essere finiti qui entro agosto этот человек только что уволился e eixit работу l'uomo ha appena lasciato il suo lavoro e sta cercando un'occupazione l'uomo ha appena lasciato il suo lavoro e sta cercando un'occupazione io продолжу после обеденного перерыва continuerò dopo la pausa pranzo continuerò dopo la pausa pranzo continuerò dopo la pausa pranzo non si preoccupi, sono sicuro che troverò un lavoro qui non si preoccupi, sono sicuro che troverò un lavoro qui non si preoccupi, sono sicuro che troverò un lavoro qui abbiamo pensato a lungo di lasciare abbiamo pensato a lungo di lasciare abbiamo pensato a lungo di lasciare ho ricevuto un abbonamento gratuito per un mese intero ho ricevuto un abbonamento gratuito per un mese intero i pesci possono respirare sott'acqua gli esseri umani no i pesci possono respirare sott'acqua gli esseri umani no è facile trovare lavoro per la stagione durante l'estate è facile trovare lavoro per la stagione durante l'estate siete d'accordo con tutti i punti? siete d'accordo con tutti i punti? siete d'accordo con tutti i punti? quando vado in viaggio per lavoro le spese sono coperte dall'azienda quando vado in viaggio per lavoro le spese sono coperte dall'azienda la vita in questa città è molto costosa la vita in questa città è molto costosa la vita in questa città è molto costosa così tutti contano i costi e cercano di risparmiare così tutti contano i costi e cercano di risparmiare teniamo sotto controllo i consumi di acqua e calore dopo il check-in i ospiti devono compilare un questionario e firmare il modulo di registrazione dopo il check-in i ospiti devono compilare un questionario e firmare il modulo di registrazione posso installare la versione di prova di questa app gratuitamente posso installare la versione di prova di questa app gratuitamente la stagione estiva si protrae fino a metà settembre tutti vogliono essere felici e ricchi tutti vogliono essere felici e ricchi tutti erano al lavoro tranne te tutti erano al lavoro tranne te c'erano solo 10 persone c'erano solo 10 persone c'erano solo 10 persone è un giovane molto intelligente e rispettabile è un giovane molto intelligente e rispettabile ogni persona, anche la più piccola, è un individuo unico ogni persona, anche la più piccola, è un individuo unico ogni persona, anche la più piccola, è un individuo unico il sogno di tutti è quello di guadagnare di più il sogno di tutti è quello di guadagnare di più molte persone sono venute al concerto molte persone sono venute al concerto molte persone sono venute al concerto mia madre è una persona molto gentile e premurosa mia madre è una persona molto gentile e premurosa per questo l'amo così tanto per questo l'amo così tanto per questo l'amo così tanto metto i miei risparmi in banca in deposito metto i miei risparmi in banca in deposito ho conosciuto una bella ragazza ad una festa ho conosciuto una bella ragazza ad una festa tutti hanno il diritto di commettere errori tutti hanno il diritto di commettere errori voglio pollo con funghi e patate per cena voglio pollo con funghi e patate per cena ieri sera ho cucinato carne per cena ieri sera ho cucinato carne per cena tutti i pesci hanno branche e pinne tutti i pesci hanno branche e pinne tutti i pesci hanno branche e pinne Это именно то, что я хотела È esattamente quello che volevo È esattamente quello che volevo È esattamente quello che volevo Я подожду и посмотрю, что он мне ответит Aspetto di vedere cosa dice Aspetto di vedere cosa dice Aspetto di vedere cosa dice Мой парень пригласил меня завтра на ужин Il mio ragazzo mi ha chiesto di uscire a cena domani Il mio ragazzo mi ha chiesto di uscire a cena domani Il mio ragazzo mi ha chiesto di uscire a cena domani Как ты на это смотришь? Come la vedi? Come la vedi? Come la vedi? Я не верю, что он говорит правду Non credo che stia dicendo la verità Non credo che stia dicendo la verità Non credo che stia dicendo la verità Мы проводим все свое свободное время вместе Passiamo tutto il nostro tempo libero insieme Passiamo tutto il nostro tempo libero insieme Passiamo tutto il nostro tempo libero insieme Abbiamo un capo severo ma giusto Abbiamo un capo severo ma giusto Abbiamo un capo severo ma giusto Il denaro deve essere speso con saggezza Il denaro deve essere speso con saggezza Il denaro deve essere speso con saggezza Io ho dato dei soldi per le caramelle Io ho dato dei soldi per le caramelle Non mi piace cucinare ma amo mangiare del buon cibo Non mi piace cucinare ma amo mangiare del buon cibo Io vivo in un appartamento alla periferia della città Vivo in un appartamento alla periferia della città Lasciami almeno due fette di pizza Io sono così affamata Sделai хоть butterbroad Sono così affamata Almeno fai dei panini per il tè Sono così affamata Almeno fai dei panini per il tè Sono così affamata Almeno fai dei panini per il tè Dammi la ricetta di questa torta al cioccolato Dammi la ricetta di questa torta al cioccolato Asnova здесь, это яйца, сахар e muca La base è costituita da uova, zucchero e farina La base è costituita da uova, zucchero e farina È arrivato così affamato che ha mangiato tutta la minestra È arrivato così affamato che ha mangiato tutta la minestra È arrivato così affamato che ha mangiato tutta la minestra Fa così caldo oggi che ho voglia di gelato Fa così caldo oggi che ho voglia di gelato Fa così caldo oggi che ho voglia di gelato Il calore fa sciogliere rapidamente il gelato Il calore fa sciogliere rapidamente il gelato Sono qui, c'è qualcuno in casa? Sono qui, c'è qualcuno in casa? Sono qui, c'è qualcuno in casa? Nasi ci hanno lasciato andare un po' prima Oggi ci hanno lasciato andare un po' prima Per riuscire a te è stata la decisione più intelligente che abbia mai preso Trasferirmi da te è stata la decisione più intelligente che abbia mai preso Leggo sempre prima di firmare Leggo sempre prima di firmare E' quello che mi serve E' quello che mi serve Questo è quello che stavo cercando È quello che mi serve Questo è quello che stavo cercando Sulla busta non c'è l'indirizzo di ritorno Sulla busta non c'è l'indirizzo di ritorno Mi piace viaggiare, ma è costoso Mi piace viaggiare, ma è costoso Il tempo dal lunedì al venerdì passa velocemente Il tempo dal lunedì al venerdì passa velocemente Il tempo dal lunedì al venerdì passa velocemente L'abbiamo di non ricordare Tutto è già l'ultimo È meglio non pensarci Fa parte del passato È meglio non pensarci Fa parte del passato È meglio non pensarci È meglio non pensarci Fa parte del passato È meglio non pensarci Fa parte del passato È bello quando le cose finiscono bene È bello quando le cose finiscono bene È bello quando le cose finiscono bene. Il mio obiettivo è diventare medico e sto studiando molto per questo. Il mio obiettivo è diventare medico e sto studiando molto per questo. Il mio obiettivo è diventare medico e sto studiando molto per questo. Per accedere al sito è necessaria una password. Per accedere al sito è necessaria una password. Per accedere al sito è necessaria una password. Ti ho richiamato appena ho potuto. Ti ho richiamato appena ho potuto. La posizione di questo manager è altamente rimunerata. La posizione di questo manager è altamente rimunerata. La posizione di questo manager è altamente rimunerata. Sono stata assunta dall'azienda, ma con un periodo di prova. Sono stata assunta dall'azienda, ma con un periodo di prova. Sono stata assunta dall'azienda, ma con un periodo di prova. Ricopre il ruolo di direttrice della scuola. Ricopre il ruolo di direttrice della scuola. Scrive una lettera di dimissioni. Scrive una lettera di dimissioni. Scrive una lettera di dimissioni. Non riesco a pensare a un candidato migliore per questa posizione. Non riesco a pensare a un candidato migliore per questa posizione. childhood di un indicio di unacceptable. C'è il trattato vomiting. Si trattano e ad gestare. Avessi stenovo con la scuola. Scrive una lettera di stipulazione. Sto sopra forse e ad gestare. Scrive una lettera dienesdesde a Hobbit. Non sono in grado di farlo da sola, quindi gli ho chiesto di aiutarmi. Purtroppo, non lo aiuterà più. Prima di un altro costume, questo ti è male. Prova un altro abito, questo è troppo piccolo per te. Prova un altro abito, questo è troppo piccolo per te. Ho prenotato la mia camera con un mese di anticipo. Ai miei figli piace molto sciare. Ai miei figli piace molto sciare. Sono arrivato ieri sera con il treno notturno. Abbiamo ricevuto un invito a nozze tra 15 giorni. Dobbiamo scoprire chi ha rubato il portafogli. Dobbiamo scoprire chi ha rubato il portafogli. Ho ricevuto la tua e-mail. Ho ricevuto la tua e-mail. Ho ricevuto la tua e-mail. Vesden duet холодny vecer. Soffia freddo tutto il giorno. Soffia freddo tutto il giorno. Soffia freddo tutto il giorno. Io ho ricevuto molto a tutti i giorni. Sudo molto quando faccio esercizio fisico. Sudo molto quando faccio esercizio fisico. Sudo molto quando faccio esercizio fisico. Povere, io abbiavuto così. Credetemi, non lo farei mai. Credetemi, non lo farei mai. Credetemi, non lo farei mai. LUCCHE NOSITI ACHKI, CHEBY LUCCHI VIDETTE. È meglio indossare gli occhiali per vedere meglio. È meglio indossare gli occhiali per vedere meglio. È meglio indossare gli occhiali per vedere meglio. Io preferisco bere tè piuttosto che caffè. Preferisco bere tè piuttosto che caffè. preferisco bere tè piuttosto che caffè. L'orario di lavoro è dal lunedì al venerdì. L'orario di lavoro è dal lunedì al venerdì. L'hotel ha chiamato e ho confermato la prenotazione. L'hotel ha chiamato e ho confermato la prenotazione. Non lo abbiamo in magazino, ma possiamo realizzarlo su misura. Non lo abbiamo in magazino, ma possiamo realizzarlo su misura. Per fare una passeggiata sul lungomare. Fare una passeggiata sul lungomare. Fare una passeggiata sul lungomare. Abbiamo camminato lentamente lungo il sentiero fino a quando non abbiamo visto una panchina. Abbiamo camminato lentamente lungo il sentiero fino a quando non abbiamo visto una panchina. Oggi voglio tornare a casa a piedi. Oggi voglio tornare a casa a piedi. L'azienda ha filiali in tutto il mondo. L'azienda ha filiali in tutto il mondo. L'azienda ha filiali in tutto il mondo. Ho acquistato un forno da un annuncio online. Ho acquistato un forno da un annuncio online. Mi madre ha trasferito del denaro sulla mia carta bancaria. Mia madre ha trasferito del denaro sulla mia carta bancaria. Corriamo in spiaggia, non vediamo l'ora di nuotare. Corriamo in spiaggia, non vediamo l'ora di nuotare Questa azienda paga bene e ci sono anche piccoli bonus Questa azienda paga bene e ci sono anche piccoli bonus Questa azienda paga bene e ci sono anche piccoli bonus Bisogna lavorare sodo per ottenere un buon stipendio Bisogna lavorare sodo per ottenere un buon stipendio Bisogna lavorare sodo per ottenere un buon stipendio Abbiamo inviato il pacco una settimana fa Abbiamo inviato il pacco una settimana fa Abbiamo affittato una casa al mare per tutta l'estate Abbiamo affittato una casa al mare per tutta l'estate Grazie per il suggerimento, non l'avrei trovato da solo Grazie per il suggerimento, non l'avrei trovato da solo L'autobus partirà dalla stazione degli autobus alle 5 in punto L'autobus partirà dalla stazione degli autobus alle 5 in punto Tagliare la torta in 8 pezzi Tagliare la torta in 8 pezzi È necessario prima di tutto fare un piano È necessario prima di tutto fare un piano È necessario prima di tutto fare un piano È una buona cosa che il suo astuto piano sia andato a vuoto È una buona cosa che il suo astuto piano sia andato a vuoto Quando posso iniziare? Quando posso iniziare? Quando posso iniziare? Na 5 этаже, 2a дверь слева Al 5 piano, 2a porta a sinistra Al 5 piano, 2a porta a sinistra All'8 piano, 5a porta a sinistra All'8 piano, 5a porta a sinistra Bisogna fare attenzione Bisogna fare attenzione Ci sono molte curve strette Bisogna fare attenzione Bisogna fare attenzione Ci sono molte curve strette Ho riavuto i miei soldi perché il nostro volo è stato cancellato Ho riavuto i miei soldi perché il nostro volo è stato cancellato Scusate per il disordine in casa Scusate per il disordine in casa Ne ho passate tante negli ultimi anni Ne ho passate tante negli ultimi anni Ne ho passate tante negli ultimi anni Non ci siamo visti per circa 10 o 15 anni Non ci siamo visti per circa 10 o 15 anni Non ci siamo visti per circa 10 o 15 anni E tu non sei cambiato per niente Sei ancora più giovane E tu non sei cambiato per niente Sei ancora più giovane E tu non sei cambiato per niente Sei ancora più giovane E' troppo tardi Il treno è già partito È troppo tardi Il treno è già partito Ogni fine settimana andiamo al ristorante Ogni fine settimana andiamo al ristorante Moya smena закончилась Io ando domani Il mio turno è finito Vado a casa Il mio turno è finito Il mio turno è finito Vado a casa LUCCHE PERIPISATI Meglio riscrivere che ripartire da zero Meglio riscrivere che ripartire da zero Meglio riscrivere che ripartire da zero Di solito inizio la mia mattinata facendo esercizio fisico Di solito inizio la mia mattinata facendo esercizio fisico LUCCHE ADIN RAS CUPIETT PODOROJA NO LUCCHE È meglio acquistare una volta più costoso Ma meglio È meglio acquistare una volta più costoso Ma meglio È meglio acquistare una volta più costoso Ma meglio Più del doppio del prezzo Ma peggiore Più del doppio del prezzo Ma peggiore Più del doppio del prezzo Ma peggiore Questo grattacielo è il più alto della città Questo grattacielo è il più alto della città Questo grattacielo è il più alto della città Andiamoci insieme È bellissimo Andiamoci insieme È bellissimo Andiamoci insieme È bellissimo Perché non sono riuscito a contattarti Per tutto il giorno Per tutto il giorno Perché non sono riuscito a contattarti per tutto il giorno Tu non sono riuscito a contattarti per tutto il giorno Sì, oggi ho lasciato il telefono a casa Sì, oggi ho lasciato il telefono a casa Tutto è avvenuto molto rapidamente Tutto è avvenuto molto rapidamente Non ho avuto il tempo di capire nulla Non ho avuto il tempo di capire nulla Non ho avuto il tempo di capire nulla U меня через неделю день рождения Compio gli anni tra una settimana Compio i anni tra una settimana Compio gli anni tra una settimana Давай не сейчас, очень много работы Non facciamolo ora, è molto impegnativo Non facciamolo ora, è molto impegnativo Non facciamolo ora, è molto impegnativo Извини, не успел тебя предупредить Mi dispiace, non ho avuto il tempo di avvertirvi Mi dispiace, non ho avuto il tempo di avvertirvi A теперь еще раз все по порядку E ora, ancora una volta in ordine sparso E ora, ancora una volta in ordine sparso E ora, ancora una volta in ordine sparso Non ho dubbi che questo sia stato il caso Non ho dubbi che questo sia stato il caso Perисчитай внимательно 200 не хватает Contare attentamente Mancano 200 persone Contare attentamente Mancano 200 persone Contare attentamente Contare attentamente Contare attentamente Mancano 200 persone Ты, как всегда, оказался прав Avevi ragione, come sempre Avevi ragione, come sempre Avevi ragione, come sempre Każde outrad noi тоже Ogni mattina la stessa cosa Ogni mattina la stessa cosa Ogni mattina la stessa cosa Мне здесь хорошо, не хочу переезжать Sono felice qui, non voglio trasferirmi Sono felice qui, non voglio trasferirmi Ты забыл? Ты это уже говорил L'hai dimenticato? L'hai già detto L'hai dimenticato? L'hai già detto Мы пришли вовремя А вы почему опоздали? Eravamo in horario Perché siete in ritardo? Eravamo in horario Perché siete in ritardo? Mi сердись, я не хотела тебя обидеть Я лучше сделаю все сама, так будет быстрее Preferisco farlo da solo È più veloce Preferisco farlo da solo È più veloce Preferisco farlo da solo È più veloce Во вторник Во вторник я не смогу Давай лучше в понедельник Non posso farlo martedì Facciamolo lunedì Non posso farlo martedì Facciamolo lunedì Non posso farlo martedì Facciamolo lunedì Посмотри Посмотри в кладовке На верхней палке Guardate nella dispensa sul ripiano superiore Guardate nella dispensa sul ripiano superiore Guardate nella dispensa sul ripiano superiore Сам посмотри, если не веришь Guardate voi stessi, se non mi credete 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 Mi hai offeso, ecco tutto Mi hai offeso, ecco tutto Mi hai offeso, ecco tutto È una lunga strada da percorrere a piedi Prendiamo invece la metropolitana Скажи мне правду, tu там был? Dimmi la verità Eri-li? Dimmi la verità Eri-li? Dimmi la verità Eri-li? Quest'anno l'estate è stata particolarmente calda Mi dispiace, mi è accidentalmente caduto Non sto insinuando nulla, lo dico chiaramente Non sto insinuando nulla, lo dico chiaramente I genitori vengono a trovarci due volte al mese I genitori vengono a trovarci due volte al mese Non sarò in grado di farlo adesso Non sarò in grado di farlo adesso Ieri pomeriggio siamo andati in una pizzeria Ieri pomeriggio siamo andati in una pizzeria Passorili s'mugem, on меня очень abidil Ho litigato con mio marito e mi ha fatto molto male Ho litigato con mio marito e mi ha fatto molto male Ho litigato con mio marito e mi ha fatto molto male Sei il miglior marito del mondo Sei il miglior marito del mondo Questa è un'immagine di grande valore Questa è un'immagine di grande valore Lascia perdere, non intendevo affatto questo Lascia perdere, non intendevo affatto questo Sei un adulto, fai quello che vuoi Sei un adulto, fai quello che vuoi Sei un adulto, fai quello che vuoi Qui ci sono 20 dollari e dovrebbero essere 50 Qui ci sono 20 dollari e dovrebbero essere 50 Qui ci sono 20 dollari e dovrebbero essere 50 È la mia casa, è la casa dei miei vicini È la mia casa, è la casa dei miei vicini Prendimi una sedia da quella stanza Prendimi una sedia da quella stanza Non sto piangendo, è solo che non sono dell'umore adatto Non sto piangendo, è solo che non sono dell'umore adatto Non voglio fare nulla oggi Non voglio fare nulla oggi Non voglio fare nulla oggi Tu conosci l'italiano abbastanza bene Conosci l'italiano abbastanza bene Conosci l'italiano abbastanza bene Sono quasi caduto Grazie per l'incoraggiamento Sono quasi caduto Grazie per l'incoraggiamento Non dire cose che non si conoscono Non dire cose che non si conoscono Non dire cose che non si conoscono Хотела бы я иметь такую же figura Vorrei avere una figura come quella 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 Sходим завтра, a лучше послезавтра Ci andremo domani, o meglio ancora dopo domani Ci andremo domani, o meglio ancora dopo domani Ci andremo domani, o meglio ancora dopo domani Non ci andrò, è lontano Non ci andrò, è lontano Non ci andrò, è lontano Abbiamo capito che non è vero Abbiamo capito che non è vero Abbiamo capito che non è vero Può si riuscita, se si riuscita Lasciarlo andare se lo desidera Lasciarlo andare se lo desidera Lasciarlo andare se lo desidera Non lo sapevamo, ecco perché siamo venuti Non lo sapevamo, ecco perché siamo venuti Non lo sapevamo, ecco perché siamo venuti Aiutami a scendere, ho paura di cadere Aiutami a scendere, ho paura di cadere Sei così felice, sono un po' invidiosa di te Sei così felice, sono un po' invidiosa di te Questo bisogna fare Dove essere fatto entro lunedì Deve essere fatto entro lunedì Deve essere fatto entro lunedì Deve essere fatto entro lunedì L'autista era in difetto L'autista era in difetto, si era addormentato al volante L'autista L'autista era in difetto, si era addormentato al volante Io so guidare e lui no 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 Non devi spiegarmi nulla Lascia perdere Non devi spiegarmi nulla Lascia perdere Conosce bene questa città Conosce bene questa città Conosce bene questa città Et sittende Non può essere Ho controllato tutto Non può essere Ho controllato tutto Non può essere Ho controllato tutto Un po' di mal di testa. Non ho dormito molto. Un po' di mal di testa. Non ho dormito molto. Ni za che ne credo. Non è riuscito a farlo. Non ci credo. Non è riuscito a farlo. Non ci credo. Non è riuscito a farlo. C'era bella pasmorna, a sivodnia svetit sonsa. Ieri era nuvoloso, ma oggi splende il sole. Ieri era nuvoloso, ma oggi splende il sole. Ieri era nuvoloso, ma oggi splende il sole. Sei così romantico, mi piace. Sei così romantico, mi piace. Sei così romantico, mi piace. Ho una brutta contusione al ginocchio. Ho bisogno di radiografie. Ho una brutta contusione al ginocchio. Ho bisogno di radiografie. Ho una brutta contusione al ginocchio. Ho bisogno di radiografie. Non ho visto nessuno entrare lì dentro. Non ho visto nessuno entrare lì dentro. Non c'era nessuno. Non è uscito nessuno. Non c'era nessuno. Non è uscito nessuno. Non c'era nessuno. No c'era nessuno. Non è uscito nessuno. Non fatelo mai, è una cosa negativa Non fatelo mai, è una cosa negativa Grazie per l'aiuto, ora ci penso io Posso avere dei dolci? Posso avere dei dolci? Siamo arrivati a mezzanotte, molto stanchi Siamo arrivati a mezzanotte, molto stanchi Siamo arrivati a mezzanotte, molto stanchi Domani e dopodomani sono libero Domani e dopodomani sono libero Ti pochudiella, так намного лучше Avete perso peso, è molto meglio Avete perso peso, è molto meglio Avete perso peso, è molto meglio Portami quei documenti, voglio vederli di persona Portami quei documenti, voglio vederli di persona Voglio imparare a farlo velocemente, come fate voi Voglio imparare a farlo velocemente, come fate voi Anche lei vuole venire con noi Anche lei vuole venire con noi Se non vuoi, me ne andrò da solo Se non vuoi, me ne andrò da solo Aiutatemi, anche io sto passando un momento difficile Aiutatemi, anche io sto passando un momento difficile Questa è la ragazza di cui ti parlavo Questa è la ragazza di cui ti parlavo Fuori è buio, accendete la luce Fuori è buio, accendete la luce Corre più velocemente perché è un atleta Corre più velocemente perché è un atleta Corre più velocemente perché è un atleta Venite a vedere con i vostri occhi se non mi credete Venite a vedere con i vostri occhi se non mi credete Più facile a dirsi che a farsi Più facile a dirsi che a farsi Non hai risposto alla mia domanda Non hai risposto alla mia domanda Questi dolci sono deliziosi Questi dolci sono deliziosi Mi rimetto le scarpe Mi rimetto le scarpe Mi rimetto le scarpe Il portafoglio è nel primo cassetto 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 Oggi pranzeremo con il porrige Oggi pranzeremo con il porrige Io ho detto di non tornare Io ho detto di non tornare Io ho detto di non tornare Io curio, non ne piu Fumo, ma non bevo Fumo, ma non bevo Fumo, ma non bevo Io ho detto di non dormire Ho smesso di bere cinque anni fa Ho smesso di bere cinque anni fa Ho smesso di bere cinque anni fa È stato molto gentile a raccontarmi tutto È stato molto gentile a raccontarmi tutto Lo capisco, non ci sono riuscito Nemmeno io Lo capisco, non ci sono riuscito Non mi interessa, sceglietene uno qualsiasi Non mi interessa, sceglietene uno qualsiasi Non mi interessa, sceglietene uno qualsiasi Cerco di mangiare meno dolci Cerco di mangiare meno dolci Cerco di mangiare meno dolci Ma oggi farò un'eccezione Ma oggi farò un'eccezione Ma oggi farò un'eccezione Pagare Pagare Stamattina c'è stato un'incendio Stamattina c'è stato un'incendio Stamattina c'è stato un'incendio Voi abit показывali po'navostiam Era al telegiornale all'ora di pranzo Era al telegiornale all'ora di pranzo Era al telegiornale all'ora di pranzo Vieni più spesso Mi sento così solo qui Vieni più spesso Mi sento così solo qui Vieni più spesso Mi sento così solo qui Non finirò prima di stasera tardi Non finirò prima di stasera tardi Non finirò prima di stasera tardi Il mio appartamento è all'ottavo piano Il mio appartamento è all'ottavo piano Tu hai visto il nostro nuovo direttore? Avete visto il nostro nuovo direttore? L'ho visto qualche volta Ma non l'ho ancora incontrato Ma non l'ho ancora incontrato Come vi siete conosciuti? Come vi siete conosciuti? Come vi siete conosciuti? Voglio chiamare mia madre Voglio chiamare mia madre Voglio chiamare mia madre Voglio chiamare mia madre c'era la coda? Perché ci avete messo tanto? C'era la coda? Perché ci avete messo tanto? C'era la coda? C'era la risposta sbagliata. Questa è la risposta sbagliata. Aveva promesso di venire e non l'ha fatto. Aveva promesso di venire e non l'ha fatto. Aveva promesso di venire e non l'ha fatto. Uspacuiся, сейчас подумаем чем тебе помочь. Sì calmi, vediamo cosa possiamo fare per aiutarla. Sì calmi, vediamo cosa possiamo fare per aiutarla. Scrivete qui la parola. Scrivete qui la parola. Scrivete qui la parola. Bisogna lavorare sodo per essere promossi. Bisogna lavorare sodo per essere promossi. Bisogna lavorare sodo per essere promossi. Non voglio e non lo farò, non ci andrò. Ci sono supermercati e farmacie nelle vicinanze? Ci sono supermercati e farmacie nelle vicinanze? Non sono favorevole a questi eventi. Non sono favorevole a questi eventi. Non sono favorevole a questi eventi. I prezzi qui salgono ogni anno. I prezzi qui salgono ogni anno. I prezzi qui salgono ogni anno. Non lasciarlo così pulisci dopo di te. Non lasciarlo così pulisci dopo di te. Non lasciarlo così pulisci dopo di te. Qui l'inverno è quasi inesistente. Solo un mese. Qui l'inverno è quasi inesistente. Solo un mese. Perché sei stato licenziato? Perché sei stato licenziato? Perché sei stato licenziato? Tu devi passare, perché sei stato licenziato? Beri bene, perché sei stato licenziato? Perché sei stato l'intesa di risolvere di me? Perché sei stato licenziato? Dunque sei stato licenziato? per andare al lavoro prende l'autobus per andare al lavoro prende l'autobus per andare al lavoro tenete le luci accese, non si vede nulla tenete le luci accese, non si vede nulla non dimenticare di chiamarmi due volte al giorno non dimenticare di chiamarmi due volte al giorno non dimenticare di chiamarmi due volte al giorno attenersi ai consigli del medico attenersi ai consigli del medico in questo modo si guarisce più velocemente in questo modo si guarisce più velocemente in questo modo si guarisce più velocemente registriamoci subito registriamoci subito registriamoci subito ho già preso il mio caffè e ne ho ordinato un altro ho già preso il mio caffè e ne ho ordinato un altro sfortunatamente non sono stata assunta per quella posizione sfortunatamente non sono stata assunta per quella posizione quando sono tornato a casa la porta era aperta quando sono tornato a casa la porta era aperta i prezzi degli affitti aumentano ogni anno i prezzi degli affitti aumentano ogni anno sei malato stasera rimani a casa sei malato stasera rimani a casa sei malato stasera rimani a casa non so quando sarò libero 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 ho ancora molto lavoro da fare 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 questo caffè è molto popolare tra i turisti questo caffè è molto popolare tra i turisti la cena è quasi pronta vai a lavarti le mani voglio vedere un film voglio vedere un film sfortunatamente questo è ciò che ha detto sfortunatamente questo è ciò che ha detto ho perso il passaporto cosa devo fare ho perso il passaporto cosa devo fare lo faremo sicuramente la prossima settimana lo faremo sicuramente la prossima settimana questo negozio ha molti clienti questo negozio ha molti clienti questo negozio ha molti clienti Non troverò le mie chiavi Non troverò le mie chiavi Non troverò le mie chiavi Ha comprato un bel telefono dell'ultimo modello Ha comprato un bel telefono dell'ultimo modello I genitori vi inviano le loro congratulazioni I genitori vi inviano le loro congratulazioni I genitori vi inviano le loro congratulazioni Chiedete alla biglietteria quando è previsto il prossimo autobus Chiedete alla biglietteria quando è previsto il prossimo autobus Chiedete alla biglietteria quando è previsto il prossimo autobus Sorry, ho fretta di andare al lavoro Scusate, ho fretta di andare al lavoro Вам здесь или с собой? Sei qui o lo porti con te? Sei qui o lo porti con te? Sei qui o lo porti con te? Non ho dubbi che lui la ami Non ho dubbi che lui la ami Non ho dubbi che lui la ami Cosa lavoratore ha доступe a base di dati Cosa lavoratore ha доступe a base di dati Ogni dipendente accesso al database Ogni dipendente accesso al database Ogni dipendente accesso al database Cercare di ricordare dove si è messo Cercare di ricordare dove si è messo Cercare di ricordare dove si è messo Pensavo che il viaggio sarebbe stato più economico per noi Pensavo che il viaggio sarebbe stato più economico per noi Non l'ho mai visto prima Non l'ho mai visto prima Non l'ho mai visto prima Tvoia mamma выглядит молодa Tua madre sembra giovane Tua madre sembra giovane Tua madre sembra giovane Non preoccupatevi Non preoccupatevi Lo sanno già tutti Non preoccupatevi Lo sanno già tutti Tua madre sembra giovane Potete mettere il vostro cappotto qui Potete mettere il vostro cappotto qui Potete mettere il vostro cappotto qui Buona idea Possiamo provarla Notebook slomался On ne включается Il portatile è rotto Non si accende Il portatile è rotto Non si accende Il portatile è rotto Non si accende Ci andremo sicuramente questo fine settimana Ci andremo sicuramente questo fine settimana È molto Dividetelo per metà È molto Dividetelo per metà È molto Dividetelo per metà Ho messo il tuo documento Ho messo i tuoi documenti Nel cassetto Della Scrivania Ho messo i tuoi documenti Nel cassetto Della Scrivania Ho messo i tuoi documenti nel cassetto della scrivania. Non dovrebbe essere così, devi muoverti. Grazie per il vostro aiuto.